Concludiamo il discorso lungo legato al Partenone proponendoci una domanda di chi sono i marmi del Partenone. È una lezione che io identifico come lezione al patrimonio, come lezione di educazione civica perché la storia dei marmi del Partenone, i marmi portati da Lord Elgin in Inghilterra ci fa riflettere su moltissimi temi, sui beni culturali in sé, sulla storia che i reperti artistici in realtà rivelano e una storia che spesso non è soltanto artistica ma anzi è culturale, è proprio storica. Allora cerchiamo un po' di capire meglio la situazione. Allora così è il Partenone come appare oggi con continui restauri che sono tuttora in corso, in parte hanno già pulito una parte, un tempo fa era molto più imbragato, come dire adesso è già molto più libero. Ma questo è ciò che resta e se noi vogliamo ammirare il Partenone dobbiamo fare un viaggio che è se non altro disseminato in Europa perché sicuramente andremo a visitare l'acropoli di Atene ma questo è ciò che possiamo vedere. Andremo magari a visitare il museo dell'acropoli di Atene c'è un nuovo museo che vi mostrerò dopo molto bello ma la maggior parte delle testimonianze noi sappiamo per quanto riguarda la decorazione scultorea realizzata da Fidia noi sappiamo essere oggi custodita al British Museum di Londra. I famosi Marmi di Lord Elgin. Allora Marmi di Lord Elgin qual è la loro storia? Qui vedete questa bellissima sala adibita appunto alla raccolta di questo lunghissimo fregio ionico, il fregio interno e ciò che resta da una parte o dall'altra dei frontoni. Chi era Lord Elgin? Allora Lord Elgin era questo Thomas Bruce settimo conte di Elgin. In realtà era un nobile scozzese che aveva rivestito tra il 1799 e il 1803 la carica di ambasciatore inglese presso l'impero ottomano quindi ad Atene. E il nostro Lord Elgin aveva avuto appunto l'incarico di andare a come ambasciatore ovviamente oltre a quello anche aveva avuto l'incarico di studiare le testimonianze che c'erano. Ma dobbiamo inserire però la figura di Lord Elgin in un'Europa, questa è una mappa che ho trovato appunto relativa al 1812, in cui gli equilibri politici erano davvero abbastanza compromessi. C'era un'Europa che era un'Europa spaccata, da un lato c'era appunto l'Europa napoleonica, le conquiste, gli alleati di Napoleone, c'era l'impero ottomano che voi vedete ancora molto grande e diffuso, esteso ecco, non che diffuso, esteso. C'erano logiche di imperialismo, quindi la verità è che mentre noi stiamo giudicando, ci stiamo ponendo il problema della correttezza o meno del fatto che Elgin abbia portato in Inghilterra i marmi del Partenone, nel frattempo Napoleone e Buonaparte con l'accordo di Tolentino prima, ma insomma con i vari trattati che aveva siglato, aveva spogliato i territori conquistati di tantissimi beni. C'erano suoi inviati che andavano a verificare nei territori conquistati la presenza di testimonianze storico-artistiche di un certo valore e le portavano a Parigi. Questa immagine ad esempio ci mostra la visita notturna dell'imperatore, dell'imperatrice, Napoleone e sua moglie, mentre stanno vedendo di notte a Louvre la sala allestita per accogliere l'ao conte che era stato portato via dalla collezione romana che lo custodiva, quelli che oggi sono i musei vaticani. Vi ricorderete, no voi non potete sapere, l'ho raccontato in un'altra classe, racconterò in un altro video, in un'altra classe raccontavo appunto del ruolo che rivestirà Antonio Canova per il rientro di opere come il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, la Venere Medici, opere di questo tipo molto belle saccheggiate da Napoleone portate in Francia e che rientreranno in Italia grazie proprio all'intercessione di Antonio Canova, scultore neoclassico per eccellenza. Ma vi sto dicendo che era abbastanza una guerra all'ordine del giorno, una guerra imperiale, non soltanto per i territori, ma anche allora per i tesori che questi territori conquistati facevano emergere. Allora torniamo al nostro Lord Elgin, aveva avuto lui la disposizione di lavorare per il progresso delle belle arti in Gran Bretagna procurandosi disegni e gessi da Atene, calchi, cassarebbe calchi in gesso insomma in sostanza. Quindi in sostanza aveva avuto l'incarico di poter andare a curiosare serenamente, bellamente tra ciò che rimaneva ad Atene per poter in sostanza disegnare, trarre dei disegni, trarre dei calchi. Così era. C'è questo report che è storia, costruito sempre al British Museum, che ci racconta appunto che a un certo punto il nostro Lord Elgin non si limita a portare via, a trarre solo calchi, come dire, ma davvero porterà via tantissime sculture, ciò che restava in piedi all'epoca sul frontoni e nei fregi. E tanto che queste testimonianze arriveranno in Inghilterra nel 1810, ma il nostro tenterà poi e riuscirà a vendere al governo inglese questi marmi. Il governo inglese appunto li acquisterà e li farà appunto, li alloggerà all'interno del British Museum. Vi faccio vedere tra poco altre immagini. Dobbiamo avere in mente una cosa importante che, allora, quando Elgin è andato ad Atene, il partenone più o meno si presentava in questo stato. Questo era un dipinto realizzato prima, però dicevamo c'era una piccola moschea all'interno, in mezzo alle rovine, e vedete era mezzo caduto dopo la storia, dopo il bombardamento, dopo la cannonata, non il bombardamento, la cannonata dei veneziani. Quindi, ancora, qui vi faccio vedere questo dipinto di Edward Oldwell, ve l'ho citato tra gli artisti che celebravano la meraviglia del partenone. Ci mostra la rimozione dei marmi del lato sud-est, a opera di Elgin, appunto, degli uomini di Elgin. Vedete appunto che stanno smontando le metope. Qualcuno ci racconta anche che nel tentativo di far scendere, in modo molto artigianale, non è certamente archeologico il metodo impiegato, molti di queste statue, o di questi alto rilievi o basso rilievi, molti si fossero spezzati, caduti a terra e spezzati in mille frantumi. Quindi, immaginatevi davvero la perdita tremenda. Ma il partenone si presentava così, come un'architettura frammentaria. Questo è sempre un dipinto di Dodwell e Simone Pomardi, che ce lo mostra dopo il saccheggio di Elgin. Qualche metope ancora sembra esserci, però vedete che davvero è uno scenario un po' desolante, desolato. Questo invece è un dipinto che ci mostra la sala allestita temporaneamente al British Museum, appunto, per accogliere i marvi di Lord Elgin, che nel frattempo era riuscito a farli acquisire, dicevamo, nel 1816, a farli comprare alla Gran Bretagna, per un prezzo di 35.000 pound del 1816, quindi non so farvi l'equivalente all'epoca, ma un prezzo che era meno della metà di quello che lui aveva stimato di poter guadagnare. Ora, al di là della questione economica, sappiate che Elgin ha portato in Inghilterra, ha portato via, quindi da Atene, qualcosa come circa 75 metri dei 160 del fregio ionico interno, 15 delle 92 metope del fregio d'orico esterne, e 17 sculture, ciò che rimaneva, dai due frontoni. Quindi davvero era un saccheggio bel e buono. Qui riconoscete il Dioniso, riconoscete appunto la testa del cavallo della Dea Selene, insomma, riconoscete altri frammenti, qualche metodo che abbiamo già commentato nei precedenti video. Ma la cosa ulteriormente spinosa è che, tra il 1821 e il 1832 ci sarebbe stata la famosa guerra d'indipendenza che avrebbe portato la Grecia finalmente a scollarsi di dosso l'impero turco ottomano, quindi a tornare alla sua indipendenza. Quindi, tutto questo è importante da ricordarvi, perché Lord Aegin aveva avuto in parte il permesso di fare questi scavi e questi disegni e questi calchi, ma l'aveva avuto dal governo ottomano, che era comunque, come dire, l'invasore della Grecia in quel momento. E di lì a poco, invece, la Grecia riconquisterà la sua indipendenza. Quindi chiederà subito indietro i marmi, ma sono 200 anni che questi marmi sono contesi e ancora rimangono, per buona parte, al British Museum. Vi ho detto, alcuni sono anche andati a finire al Louvre, perché davvero i giri di collezionismo, di mercato, sono complessi. Qui vedete un'altra bellissima incisione che ci mostra alla stanza temporanea, appunto, che doveva custodire queste preziosissime testimonianze. Qui vi faccio vedere, invece, un daguerrotipo, una fotografia della prima ora. Sapete che il daguerrotipo da guerra, appunto, era questo procedimento che permetteva di immortalare in coppia unica ciò che si fotografava a passata militarmente, perché appunto il daguerrotipo non era esattamente ancora una fotografia, 1839, che ci mostra davvero i resti, in senso non pittorico, ma davvero fotografico. E vedete di nuovo al centro i resti della piccola moschea. Questa, invece, è un'incisione del 1842, in parte non è ormai svuotato, l'effetto è abbastanza laconico. Questo dipinto, invece, sempre ottocentesco, ma ricostruisce idealmente i propri lei, il partenone, come se fossero perfetti all'epoca della gloria, come dire. Questa è una fotografia, invece, del 1865. Una vera e propria fotografia ci mostra davvero la desolazione dell'acropoli di Atene, molto diversa da quella che noi conosciamo oggi. Ancora una vista del 1882, di nuovo, del partenone in rovina di ciò che ne rimaneva. A questo punto vi sottopongo il vero e proprio dubbio. Ma di chi sono questi marmi? È giusto ciò che ha fatto Lord Elgin? È giusto che Elgin si sia preso l'incarico a sue spese di portare via i marmi, di trasportarli con una spesa enorme verso la Gran Bretagna e poi di venderli, ovviamente per il suo ricavato personale, ma per dare, anche per donare all'Inghilterra queste testimonianze. È giusto? Ecco, questo dibattito è un dibattito assolutamente aperto a cui io non ho una risposta da darvi perché è parte della storia, ma per raccontarvi meglio il tutto vi propongo alcune possibili suggestioni. Di fronte, appena sotto, all'acropoli di Atene è stato costruito da pochi anni un nuovo meraviglioso museo dell'acropoli di Atene. Qui vedete appunto questa sala con alcune testimonianze di statue che provengono ancora una volta dal partenone o comunque dall'acropoli stessa e queste vetrate bellissime che le guardate qui vedete che fanno affacciare queste testimonianze sulla città di Atene. Vedete la struttura nuova, modernissima che davvero fa dialogare l'antico con il moderno. Ma vedete là in alto, in cima, lo scheletro, ciò che resta del partenone, quasi a vigilanza. Allora, la domanda che si pone è questa. Ma è corretto che noi per andare a studiare, ad ammirare, a vedere le opere create dalla cultura greca, della classicità, dobbiamo andarcene a Londra invece che andare ad Atene? Questa è una grande domanda e sarebbe molto bello poter affrontare in classe anche un debate in proposito, perché i temi a favore o contro sono molteplici. Allora, c'è chi dice che Elgin aveva agito in senso legale, aveva avuto un permesso. Diciamo che c'era una frase, non ve l'ho inserita, il permesso che aveva ricevuto, ma c'era una frase un po' fraintendibile in cui diceva che poteva scavare bellamente, fare un po' quello che gli piaceva, ma non erano chiari i limiti, ecco. Però aveva avuto una sorta di permesso legale dall'impero ottomano. C'è chi dice, contraponendosi a questa tesi, che invece Lord Elgin avesse veramente esagerato, aveva, come dire, malinterpretato l'autorità che gli era stata data da questo permesso, quindi era andato a finire nell'illegale in realtà. C'è chi sostiene che invece sia corretto il giocapato Elgin, perché in fondo, avete visto come si presentava il partenone in quel momento, se Lord Elgin non avesse deciso anche di sua tasca di portare via ciò che rimaneva, probabilmente, molte di quelle testimonianze sarebbero comunque andate perse, perché davvero l'incuria del tempo, le esigenze altre che avevano, che le politiche dimostravano in quel momento, avevano portato a quel deterioramento di quello che era rimasto in piedi. C'è anche chi però dice, d'altra parte, che nel togliere ciò che rimaneva di queste statue, Lord Elgin stesso le abbia danneggiate e abbia danneggiato pesantemente anche la struttura stessa dell'edificio. C'è chi poi dice che non è soltanto Lord Elgin il responsabile di questo furto legalizzato, perché molti collezionisti, vi dicevo prima, a livello europeo, avevano fatto sparire moltissimo in testimonianza del partenone stesso. c'è chi dice allora che tra l'altro quando gli operatori del British Museum all'inizio hanno restaurato in modo un po' troppo rigoroso le testimonianze, li hanno puliti troppo, togliendo tutti anche le tracce del colore e quindi hanno veramente commesso anche loro uno scempio da questo punto di vista. C'è chi a favore di, quindi a sinistra, a favore di Elgin dice che in fondo se noi, se il British Museum dovesse restituire le testimonianze al partenone, cioè alla Grecia, ad Atene, ecco questo allora dovrebbe valere un po' per tutte le testimonianze che si trovano in luoghi diversi. Allora questo comporterebbe lo svuotamento dei musei occidentali, perché pensate, tantissime testimonianze sono a Louvre, tantissime sono a British Museum, tantissime sono a Berlino. Allora, se si dovesse ricominciare con questa ridistribuzione di tesori, ecco questo toglierebbe un po' il senso a molti musei. C'è chi dice che invece in proposito controbatte dicendo che il caso delle sculture del partenone sono un caso a parte, perché davvero Lord Elgin ha compiuto un'azione che è unica. C'è chi dice a sostegno di Lord Elgin e della presenza al British Museum che il British Museum ha favorito tutta una serie di attività anche di studio in proposito e quindi davvero l'averle lì costruite tutte insieme ha permesso anche un avanzamento della conoscenza. Ma d'altro lato c'è chi dice che il nuovo museo dell'acropoli di Atene che vi ho fatto vedere un attimo fa davvero sarebbe il luogo giusto dove poterli collocare perché davvero sono al di sotto dell'acropoli quindi davvero ci sarebbe un dialogo molto forte e in più tutte le sculture quasi tutte le sculture potrebbero essere riunite e quindi questa frammentaria ricostruzione dei frontoni o dei fregi che noi abbiamo provato a fare e abbiamo visto insieme insomma potrebbe essere potrebbe trovare una conclusione. C'è chi dice che è a favore di Lord Elgin che le sculture sono viste in condizioni migliori quando fanno parte di un museo grande e importante che diventa universale. In fondo il British Museum raccoglie collezioni che vanno dall'Egitto alla Grecia agli Etruschi ai Romani fino in avanti fino all'epoca moderna quindi è un museo che è internazionale universale e quindi permette una visione a tutti tra l'altro in questo senso ragioniamoci un attimo pensate anche soltanto al caso del bronzi di Riace sono custoditi dal museo di Reggio Calabria sono due capolavori due tesori stupendi ma il museo di Reggio Calabria ha un numero di visitatori molto limitato rispetto ai grandi musei che ne so romani o di altre parti d'Italia napoletane anche quindi a volte ci si pone anche il problema della visibilità quante persone vedrebbero i marmi di Lord Gelgin se fossero custoditi da Atene sicuramente tante perché tantissime persone vanno da Atene molti andrebbero apposta ma sono sicuramente numericamente molto di più le persone che passano da Londra come dire quindi anche questa è una cosa da tenere in mente controbattono a questa visione del museo universale coloro che invece dicono che questa visione universale del museo in realtà è il prodotto di una violenza coloniale che la storia ha creato quindi paesi che hanno depredato altri paesi conquistati temporaneamente impoveriti e in realtà queste testimonianze storico-artistiche non sono altro che bottino di un saccheggio quindi davvero è molto interessante in generale si conclude questa carrellata a favore con l'eredità di queste dell'Atene antica che in fondo è ritenegono quelli che sono a favore di Elgin è quasi centrale per tutta la cultura in senso esteso occidentale quindi localizzarla in un luogo in un altro è quasi un atto di provincialismo c'è chi risponde in questo caso che invece le sculture del Paterone sarebbero veramente centrali per l'identità nazionale greca un po' come se si prendesse il Colosseo e si portasse da un'altra parte insomma l'idea è proprio quella di legare le testimonianze ai luoghi di produzione ora vedete che non c'è una risposta concluderei quindi con questa citazione di Mary Bird che proponeva questa questione in questo modo il dibattito che circonda i marmi di Lord Elgin ci costringe a confrontarci con delle questioni che non hanno una risposta univoca chi dovrebbe possedere il monumento e allora la domanda viene ribaltata in questo modo può un singolo monumento funzionare sia come simbolo di una nazione che come come testimonianza culturale del mondo allora forse questo è lo scarto che dovremmo fare in avanti non andare anche se la questione è veramente aperta ma davvero in fondo vi ho proposto l'ipotesi del Partenone come simbolo della perfezione simbolo dell'esperimento della democrazia non soltanto della cultura greca ma davvero dell'intero mondo occidentale dovremmo rifletterci grazie grazie grazie